Il coraggio non è mai stato a non avere paura, le persone coraggiosi sono quelle che affrontano i loro timori e le loro incertezze, sono quelli che le ribaltano al loro vantaggio usandole per diventare ancora più forti. Negli occhi dei nostri oggi forse c'è anche un po' di timore come sempre quando arrivi al momento decisivo e allora coraggio azzurri. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.